Come me, io vorrei, quando è la sua casa, ringraziare questo grande uomo, che tra noi l'artista è stato un po' un po' da padre, io sono sposato prima in questa struttura nel 90, quindi diciamo che con noi ha fatto un po' da padre artistico, il papà lo perso di con me, e questa persona diciamo che dall'inizio della sua, diciamo, carriera, come hai visto da lui, c'è sempre aperte le porte a noi artisti di Napoletà, e noi adesso con questa notizia lo ringraziamo lo stesso, forse ne ha passato dall'altra parte del muro, come si dice, con la vita migliore, ma loro non siamo solo ringraziati e dire che siamo un bello applauso sotto, addonatore a voi, grazie a tutti e a tutti i miei ragazzi che vivono spesso la notte è proprio di un momento, di un momento un po' buio di Maria Ligia, e la notte lui portò una canzone che mi disse, gloria di cantare perché questa canzone la presenta tu padre, e tu devi raccontare come hai il tuo cuore, in tutti e due spettacoli. Io mi stasera a sbagliare, e io mi stasera a sbagliare, e io mi stasera a sbagliare, grazie. 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 Grazie.